questa è la situazione attuale ehi yo amici oggi sono in compagnia di Fiammetta e ci prepareremo per Halloween voi probabilmente l'avrete già passato Halloween ditemi nei commenti da che cosa vi siete vestiti che cosa avete fatto e niente adesso noi stiamo preparando dei panini perchè stasera oltre ad uscire faremo un pigiama party ci sarà un po' di gente e niente quindi adesso stiamo cucinando la parte in cui inquadrerò tutto sarà quando ci truccheremo però adesso non vi spoilerò mentre cuciniamo per gli altri c'è solo un casino non è molto divertente vedrete più avanti da che cosa ci saremo vestite scusate se sto morendo di caldo sono in cannottiera ma abbiamo registrato di tiktok e quindi sto sudando allora ciao amici di nuovo adesso mi devo struccare così poi mi vesso e mi trucco mi trucca fiammette in realtà intanto ne abbiamo preparato abbiamo cucinato abbiamo iniziato a cucinare ma non è questo quello che faremo nel video intanto qui c'è Effie lì c'è Gianni che sta la cune per tutta la serata vi faremo vedere anche come si preparerà lui e ci vediamo tra poco comunque noi ancora dietro i miei video ci vestiremo da Sheryl e Veronica abbiamo anche il costume delle Riverdixens io ho già pieno ehi bro cosa vedi? niente il mondo senza di te vecchio provo a essere pari Gianni mi presi il tuo telefono adesso vediamo una foto di Sheryl no è questo per il compiere devo vedere questa spazio questa parte la tagli ti ho detto prima voglio fare le sopracciglia e te le copro con il primo client dico che non sono una professionista e lo faccio per divertimento non uso nessuna tecnica non fatelo a casa leva Peppa Pigda di quadratura uno sul canale di Marecara e non per Marecara di Spettacchini di parte anche beh la differenza di P.P.G.S. o non è meglio? veramente si vuoi paragonare M a Peppa questo è così figo ma li vedete simpatici sono brutta faccio impressione questo è il mio telefono ma è scoppio ritardato è la prima volta che vedi in un mio video e informo che lei è la mia migliore amica questo lo devi mettere cosa vado al sale se io gli ho sentito appena il Plippino nel davanzale e lui che cos'è un davanzale? allora il davanzale con la cosa sulla finestra sotto la finestra poi sono scioccata ma sei un guaglio un guaglio? perché il papillo scusate periodo fai vedere l'altra perché il papillo è Dante è e fa vincere l'altra è di profilo così quindi vuol dire che è normale che sta prontamente diteci cosa ne pensi perchè appunto anche del nostro naso quanti soldi ha fatto guadagnare le fabbiche a milioni di milioni e l'ostere di libro non è semplice non sono male si faccio giusto a me paura io James Harland è super ok avvicinati su guadagnino quale è la linea che ti devo fare tu li se ne devo mettere pure di più basta e avanza oh ho fatto adesso devo mettere il rossetto prima la matita è completamente la ciecata perché vedo poco niente è bellissimo ok è bellissimo questo naso e niente adesso lo potete vedere qua va bene non 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 I'm coming, I'm coming Ma poi potrò parlare Sì, si deve asciugare Ah no, qua andrà, ecco, vuole tenere male Sono usciti A me vera una cacata assurda Adesso devo metterti Ancora me Troppo gotti Te lo devo mettere un altro go Non capisco Non capisco Questa è la situazione attuale Ah Sì, c'è l'ultima Sì, c'è l'ultima Allora alla fine il make up è venuto così Completamente diverso Mi sono arrangiata E niente poi ho fatto anche dei pop A tema Halloween Probabilmente l'avrete già visti Probabilmente no Non lo so E niente Ditemi da che cosa vi siete vestiti voi Ditemi come avete passato la serata E beh credo che il video possa finire qui Non ho nient'altro da farvi vedere Da dirvi Ma alla fine era soltanto un video per la preparazione Stanno facendo casino E niente Ehm Ci vediamo in un prossimo video E niente Grazie per aver visto il video E ciao Grazie per aver guardato il video